Quanto furono divertenti i miei anni del Corriere, perché io avevo accanto a me dalla mattina alla sera Gaetano Petro. Ma tutto diventava estremamente divertente, estremamente diventava una specie di spettacolo pieno di imprevisti. Indro Montanelli, giornalista famosissimo, morto ormai da una ventina d'anni, sono tanti, non sembra, ma il tempo passa, e con una bibliografia sterminata di titoli tutti, tutti ristampati più e più volte nel corso del Novecento, anche negli ultimi anni, eccetera, tranne alcuni libri scritti nel ventennio, quando lui era molto giovane, Montanelli era nato nel 1909, e a un certo punto ha la bella idea di andare a fare la guerra d'Africa, volontario ci va, e va come capo, comandante di un battaglione di Ascari. Tra l'altro questa vicenda è legata anche alla sua famosa vicenda di un matrimonio con una dodicenne, che giustamente oggi suscita molto raccapriccio e che lui difese in vario modo, varie volte con molte contestazioni. Ma al di là di quello, lui va e pubblica una serie di libri che sono legati a questa esperienza e sono piuttosto schierati a favore del fascismo. Ma non pubblica solo quelli, perché prima ancora di pubblicare quelli pubblica un racconto che si chiama Primo Tempo, che è un racconto di formazione, parla di un giovane e ha una prefazione che dice così. L'adesione incondizionata di tutta la nostra gioventù a Mussolini non è ossessione, come spesso si pensa oltre Alpe e oltreoceano, sebbene la figura di Mussolini sia di tale grandezza da giustificare anche l'ossessione, ma è coscienza chiara della rivoluzione che in lui, maiuscolo, si identifica. Coscienza che si forma, che si forma attraverso prove, talvolta attraverso sbandamenti e inabissamenti, ma sempre tesa verso un ideale che nella storia della società umana non trova riscontri. E può darsi che nello stato d'animo di Valerio, che è il protagonista di questo libro, qualcuno ritrovi il proprio, qualcuno, che poi vuol dire molti. Vi domandate come mai questo libro non è mai più stato ristampato? Io credo che anche per uno che non è mai stato pentito, non ha mai rinnegato la sua adesione al fascismo, ci siano delle cose un po' imbarazzanti. Ma primo tempo non è un episodio isolato, perché in realtà viene affiancato, per la stessa casa editrice, da un titolo che si chiama Ventesimo Battaglione Eritreo, che qui non abbiamo perché in realtà è stato ristampato. Quello sì nel 2010 da uno studioso, però lo potete trovare. Quindi non è un libro fantasma, mentre primo tempo o avete quell'edizione lì o ve lo scordate. Molto più difficile trovare, insieme a Ventesimo Battaglione Eritreo, che è quello per cui Montanelli combatte, anche questo libro che si chiama Ambesà. Ambesà che vuol dire leone in lingua locale dell'Africa dove loro combattevano con gli Ascheri e che vuole raccontare una seconda puntata del racconto di quella guerra. Un libro che è stato, questa è una versione ristampata, ma in 200 coppie, quindi introvabile tanto quanto la prima, che fu pubblicata da Treves, quindi da un editore abbastanza grande. Treves era poi per le leggi razziali, fu costretto a vendere, era il più grande editor italiano e poi divenne Garzano. Nella stanza di Montanelli, nel Corriere della Sera degli anni 90, un lettore a un certo punto gli dice, nel 1937 lei ha dato alle stampe un romanzo dal titolo Ambesà, eccetera, eccetera. E dice, dove potrei trovarne una copia? Chiede il lettore. E Montanelli risponde, da nessuna parte, temo, non ne ho più copia, nemmeno io, sciocco e dissennato, sciallacquatore anche di me stesso. Risponde così. La cosa divertente è che una mia cara amica, Stefania Jaillet, all'epoca direttrice della Biblioteca Sormani, dopo qualche giorno manda una lettera al Corriere dicendo, abbia e diffonda più fiducia nelle biblioteche e nei bibliotecari. Ambesà di Indro Montanelli si trova qui, alla Biblioteca Centrale del Comune di Milano. Dopodiché il Comune ne fa questa ristampa in 200 coppie. Onestamente non è un libro particolarmente raccomandabile, viene romanzata la vicenda. È un libro che ebbe una certa fortuna, fu pubblicato prima in una rivista molto nota, l'Illustrazione italiana, e poi in questa edizione. Un po' meno fantasma di primo tempo, ma diciamo che ci sono tanti libri di quell'epoca che manifestavano un'adesione chiara verso il fascismo. E che non sempre convincevano neanche i contemporanei, perché Vasco Pratolini, scrittore all'epoca, all'inizio, su primo tempo disse, sono deluso che un giovane d'ingegno con simili prodotti miri soltanto alla fama della mezza cultura intellettualoide e menefreghista, infischiandosene dell'educazione morale e dell'evoluzione sociale della massa. Ecco, quindi già allora c'erano un po' di perplessità, figuriamoci se dopo c'era spazio, se non appunto per ripubblicarlo, un po' come una curiosità del tempo andato. Io sono nato giornalista e faccio sempre il giornalista e anche quando scrivo dei libri li scrivo da giornalista e le cose le vedo da giornalista, è una specie di deformazione, ha ragione a Feltra, quando passeggio, passeggio col mio giornale, pensando all'articolo e chi mi ferma mi rompe le scappole. Mi rompe le scappole.